Dunque, entriamo nel merito, come vi avevo anticipato, di questo viaggio di Harry in Giappone. Prima di entrare nel dettaglio, siccome siamo su YouTube, vi devo ricordare di attivare la campanella, perché se no mi sentirei come una madre che non fa le dovute raccomandazioni ai propri figli. Chiamata la campanella, sei sicuro? Guarda che se vengo e controllo e non l'hai attivata... AAAAAA! Mentre noi saremmo tenuti a pensare che in questo momento Harry sta cooperando con sua moglie ad un progetto che hanno annunciato qualche giorno fa con questo famoso video, l'ultima apparizione di Harry e Meghan insieme. Lo notate che si inizia a parlare di loro due come se fossero un fenomeno religioso? In realtà Harry, sorprendendo tutti, allunga il piedino fuori dalla porta e se ne va in Giappone. Senza moglie, senza figli, riportando queste foto con amici di bell'aspetto. Io lo so che su questa cosa dei figli vi trovo su un terreno sicuro, perché ci sono molti di voi che pensano che questi bambini devono essere tutelati come se fossero dei reperti archeologici. Non vanno fatti vedere, non vanno esposti, sono fragili. C'è sicuramente qualcuno fra di voi che penserà, eh ma come faceva a portarsi i bambini in Giappone? Ma perché, scusate, quando si è piccoli non si può viaggiare? Per una questione di passaporto o per che cosa in particolare? Quest'immagine la conosciamo tutti, no? I principi del Galles ai tempi d'oro con William neonato in Australia. Però ovviamente, polemiche a parte, uno può comprendere che preferisca viaggiare con l'amico piuttosto che con la figlia o il figlio, perché l'amico esiste e quindi è facile da invitare. Ci avrà un contatto telefonico, un indirizzo, delle coordinate bancarie. Mentre di questi bambini, ogni volta che ci viene mostrata una foto, poi salta fuori sempre che sono photoshoppate. Io innanzitutto vorrei fare dei complimenti al photoshopper, perché io ad occhio nudo, vabbè che io non sono una garanzia di occhio esperto e occhio, diciamo, attento al dettaglio, perché io ci casco, io ci casco sempre, ogni volta che vedo queste foto, cioè non mi accorgerei mai di una foto photoshoppata. Ma neanche se vedo una persona con quattro mani, mi accorgo che la foto è photoshoppata. A quanto pare, da quello che si dice, anche questa è una delle tante foto photoshoppate dei bambini che ci sono state mostrate fino ad oggi. Ok, prendiamo atto che su questi bambini c'è un mistero degno della signora in giallo. Ci sono molte cose che non quadrano, ma ritorniamo al viaggio in Giappone, in cui non c'erano ne arci nel Lilibet. Teoricamente si può considerare per Harry un viaggio di lavoro, dato che si è recato lì per partecipare a un match di polo, per raccogliere fondi, per aiutare le persone che hanno difficoltà nell'affrontare un'infezione causata dal virus dell'HIV. È una causa nobile, nonché un'azione concreta da parte del principe Henry, che in realtà potremmo ormai chiamare tranquillamente Enrico. Dato che ormai è ufficiale che non ha più diritto al trattamento His Royal Highness, il titolo di duca Re Carlo ha già reso noto che lo vuole affidare a suo zio Sir Timothy Lawrence, marito della principessa Anna, per premiarlo della sua fedeltà alla corona, da cui deduciamo che secondo Re Carlo suo cognato è stato più fedele di suo figlio, e questa cosa dispiace a tutti quanti. Se io dovessi darvi un'immagine metaforica di come vedo la figura del principe Henry al momento, io lo vedo come un gelato che si scioglie al sole. Ha perso il trattamento di sua altezza reale, ha perso il titolo di duca. Gli rimane solo principe, ma secondo me perde pure quello, per questo vi dico lo possiamo tranquillamente secondo me chiamare Enrico. Tra altre cose, io sta cosa non la sapevo, qui in Spagna i nomi dei reali inglesi se li traducono in spagnolo. L'ho scoperto quando l'altra volta stavo guardando l'incoronazione col mio amico Miguel, che mi fa Enrico al finale a Ido, si Megan, Guilherme sta i. Ho detto, oddio, ma che cosa sta succedendo qua? In Sicilia diciamo, mi sono sentito preso dai turchi, che non è niente di razzista né di sessuale. Vuol dire, mi sono meravigliato perché ho detto, ma sto guardando ancora l'incoronazione del re d'Inghilterra o una telenovela brasiliana? Soltanto dopo ho collegato Guilherme, Guglielmo, William, ma comunque l'importanza di puntare tutto sul nome l'aveva già capita Megan, ma sin dall'inizio, da quando lo iniziò a chiamare H, lui pensando che fosse un vezzeggiativo amorevole ha da subito ricambiato con M, ma non ha capito che quello di Megan non era tentativo di dimostrare affetto, una narcisista non è in grado di dimostrare affetto, lo sa fingere, ma non lo prova. In realtà quello di Megan, io ne sono convinto, era il tentativo di ridurre la sua persona ad un'unica lettera. Risultato, lui la chiama M, lei lo chiama H. Mi sembra chiaro quale sarà la loro prossima collaborazione. La prossima volta che andate in negozio e qualcuno alla cassa vi chiederà, signora, ha bisogno del sacchetto? Alzerete gli occhi e verrete stupiti da una cassiera ed un aiuto cassiere che non vi aspettavate. Bello questo oggetto, non l'ho mai visto, come si usa? Comunque, bando alle ciance e ritornando a questioni serie, mentre noi dovremmo pensare che Harry sta lavorando ad un progetto in cooperazione con sua moglie, lui prende e se ne va in Giappone e uno dice, vabbè, sarà un break momentaneo. Dopotutto si sa che anche quando lavoravano, lavoravano a ritmi da aristocratici. Un'ora settimana per la Archwell Foundation che ora è diventata Archwell Production. In realtà, come rivela Lady Victoria Harvey, l'ultimo video che ci è stato mostrato dei due, a quanto pare è un fake. Che vuol dire non che è stato photoshopato come le foto dei figli, ma che, a quanto pare, è stato registrato molto, ma molto prima, ovvero a maggio. Tra le altre cose, qualcuno mi ha fatto pure notare che effettivamente lei indossa un dolce vita. Sembra proprio che loro hanno registrato questo video con la stessa mentalità con cui noi, da bambini, mettevamo i soldini da parte. Non si sa mai che cosa può succedere, ne puoi avere bisogno. Infatti, sempre stando a quello che dice Lady Victoria Harvey, questo video sarebbe stato girato molto tempo fa e utilizzato adesso per darci l'immagine che loro stanno ancora insieme. Ma le critiche non finiscono qui. La cosa che più sembra infastidire Lady Victoria Harvey sembra essere il fatto che Meghan voglia, a tutti i costi, avere sempre l'ultima parola. Sarà vero? Non so se l'avete notato, questo è proprio quello che critica Lady Victoria Harvey. Lui dice, grazie per il vostro impegno, i nostri figli sono grati. Allora lei lo corregge, ridendo e dicendo, non lo sanno ancora. Era necessario puntualizzare a quella ragazza, gli cambiava qualcosa, se i bambini lo sanno già o no? Fino all'ultima parola della conversazione al telefono, fino all'ultimo bye, se ci fate caso, Meghan deve sempre avere l'ultima parola. Fino all'ultimo, fino all'ultima risata, fino all'ultimo bye, l'ultima parola deve essere quella della persona più importante, del marito, di chi porta i pantaloni, del maschio alfa. Ma questa comunque per noi non è una dinamica nuova. Questa cosa l'abbiamo già vista nell'intervista con Oprah, in cui lei lo interrompeva continuamente. Ma è di tutta questa storia del filmato finto, vero, registrato ieri, ho registrato a maggio, mi sorge un... una domanda. Se è vero che questo filmato è stato registrato a maggio? Il che vuol dire che loro hanno chiamato questi ragazzi a maggio. Il che vuol dire che hanno iniziato questa collaborazione a maggio. 30 di contanovembre... no, quello è quello... mi sono confuso. Maggio, giugno, luglio, agosto. Sono passati tre mesi. Che minchia di fine ha fatto il progetto? Non che io sia esigente nei confronti della rapidità di un progetto. Sono siciliano, sono abituato che i progetti abbiano delle tempistiche geologiche. Lo so benissimo che il ponte sullo stretto lo costruiranno i proprio pronipoti di Salvini. Però se è vero che questo progetto è stato comunicato ed è iniziato tre mesi fa, qualche cosa si dovrebbe essere mossa nel frattempo. Vogliamo chiedere a questi ragazzi che fine hanno fatto? Magari loro possono dare una conferma o smentire Lady Victoria Harvey, confermandoci magari quando sono stati contattati. Sempre che questi ragazzi si trovino ancora a piede libero e magari non sono, che ne so, imbavagliati in qualche scantinato di Montesito. Io quello che mi chiedo, questo progetto è vero? Non è vero? È stata tutta una messa in scena? Se noi dobbiamo credere che questo video è stato veramente girato di recente, vuol dire che li vedremo impegnati in questo progetto, mentre mi riferisco ovviamente a ciò di cui si parla molto ultimamente, ovvero della loro nuova collaborazione con Netflix. Quando vuoi fare la vita di una star del jet set di Hollywood, non c'è cosa più importante, più dei gioielli, più del fondotinta, più delle grucce per vestiti, della visibilità. Ora, la qualità della loro visibilità, diciamo che non è stata curata nel dettaglio. Come dicono i professori quando mettono il 5,5 di incoraggiamento, potevano fare di meglio. Sono intelligenti, ma non si applicano, perché ad Hollywood la visibilità è tutto. Si sono fatti la reputazione del cane, che si attacca in modo convulsivo alla gamba per accoppiarsi e quindi tutti li evitano. Già li ha mandati a quel paese. Oprah, Ellen, Taylor Swift, alberghi, ristoranti, sali e tabacchi, tutti. Fra poco non li faranno manco più entrare in farmacia. Addirittura ad un certo punto si è vociferato di loro due che volessero trasferirsi a Malibu. Stavano cercando una casa, perché da quelle parti c'era praticamente tutta la gente che conta di Hollywood. Miley Cyrus, Lady Gaga, Leonardo DiCaprio. E proprio quest'ultimo sembra che li abbia snobbati per fargli capire che non erano bene accetti in quell'ambiente. A quanto pare, Leonardo DiCaprio ha rifiutato l'invito da parte di Meghan per la festa di Natale del 2020 e non ha invitato la coppia alla festa del suo 48esimo compleanno. Il problema è che per sopravvivere ad Hollywood devi necessariamente avere visibilità, oltre che avere anche un lavoro da star. Meghan sta cercando disperatamente in tutti i modi di dare l'immagine di sé di una star lavorata, di esperienza, che crea influenza, cioè influencer. Sarà per questo motivo che ultimamente si sono incontrati con John Travolta, incontro che ha fatto molto discutere. E di cosa si tratterà mai questo nuovo progetto con Netflix? Di questo e molto altro ne parleremo nei prossimi video. Io vi ricordo, se non l'avete fatto ancora, di iniziare a seguirmi, di attivare la campanella, di lasciare un like se il video vi è piaciuto. Non siate timidi nei commenti. Ci vediamo presto.